Si cita come il Covid, il governo ha deciso di affidare la gestione del problema a un commissario straordinario. Al momento il nome di Fabrizio Curcio, che ora guida la protezione civile, è il più accreditato per il ruolo. Il commissario sarà in carica fino al 31 dicembre 2024 e potrà contare su una squadra di 30 persone. Potrà agire in deroga per realizzare gli interventi, prima di tutto a modernare la rete idrica e ridurre le perdite. Dovrà verificare l'adozione da parte delle regioni delle misure per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi. E segnalerà le inadempienze dei gestori. Per velocizzare l'intervento, la sua approvazione ai progetti sostituirà ogni autorizzazione per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per capire su cosa dovrà intervenire il commissario, consideriamo che in Italia preleviamo in media 34 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno. Nei 425.000 chilometri di tubature si perdono 38 litri ogni 100 immessi. Il 60% della rete è stata posizionata da più di 30 anni, il 25% da più di 50 anni. Il rinnovamento degli acquedotti è troppo lento, agli standard attuali di lavoro se volessimo rinnovare l'intera rete ci metteremo 250 anni. Infine, dato che il ciclo dell'acqua non va dalla fonte al rubinetto, ma dalla fonte al depuratore, e siccome non abbiamo tutti i depuratori che dovremmo avere, abbiamo 4 procedure di infrazione aperte con l'Europa e per una siamo già stati condannati, paghiamo 165.000 euro al giorno, oltre a inquinare le nostre acque.